Bentornati sul mio canale YouTube di Letta Martorane e su Spreaker. Benvenuti, se siete nuovi iscrivetevi, lasciate un commento e un like. Oggi analizziamo Paul Cézanne, Le grandi bagnanti, un'opera del 1890, un olio su tela. Cézanne è attivo tra il 1870 e il primo novecento. Si forma con le prime mostre degli impressionisti, da cui poi si distacca. A fine secolo torna varie volte sul tema della figura femminile in gruppo. Come altri autori, lui le chiama bagnanti, essendo particolarmente affascinato dalla classicità idealizzata della scultura greca, che proprio in questi anni gli archeologi stavano riscoprendo secondo l'uso tipico del neoclassicismo. Trovate un podcast interamente dedicato a questa corrente fondamentale. Il titolo è un puro pretesto per inserire corpi femminili in un paesaggio, ricercando di ricreare un'ipotetica classicità, come dimostra la loro nudità. Le figure sono ideali, studiate dal vero e espressive nei gesti ma anche nei volti, volutamente solo accennati per creare un'immagine ideale della figura femminile. Quest'ultima si inserisce in modo positivo nell'ambiente naturale. È fedele all'influenza del japanismo ed elimina completamente il chiaroscuro, mostrando il suo disinteresse per la profondità, che è solo accennata nella disposizione delle figure e degli alberi posti ai lati. L'oggetto della sua ricerca, come quella degli altri posti impressionisti, è il nuovo modo di stendere il colore. Nel caso di Cézanne ha grandi zone, piatto tendente a geometrizzarsi sotto la luce fredda. Se le grandi bagnanti vi sono sembrate interessanti e volete, potete tranquillamente lasciare un commento, un like ed iscrivervi al canale youtube di Letta Martorana e seguirmi qui su Spreaker. Se supportate i miei podcast vedrete che ne troverete sempre tantissimi.